La festa del Bari, il successo del Cereniola sul Picerno, il pass playoff conquistato dal Bitonto, è quello quasi strappato dalla Piedellissandria. Turno numero 33 per il campionato di Serie D. I verdetti definitivi sono ad un passo dall'essere tutti formulati. Davanti ad un San Nicola gremito e festante, il Bari ha onorato l'impegno piegando il rotonda con un 2-1 che sta anche stretto ai biancorossi visto l'andamento del match. A fine gara la premiazione per i ragazzi di Cornacchini che hanno raccolto il giusto tributo al termine di una cavalcata coronata con l'immediato ritorno in Serie C. In Serie C c'è già il Picerno vincitore del G1H e spina ancora di poterci arrivare anche il Cereniola. Nel match del Monterisi contro i Lucani gli Ofantini hanno mostrato orgoglio e voglia di raggiungere il secondo posto. Il 3-1 finale ha consentito ai ragazzi di Dino Bitetto di respingere l'assalto del Taranto vittorioso agevolmente sul Pomigliano. Alle spalle del terzetto di testa ha sigillato la sua posizione il Bitonto. Il 4-2 al Sorrento con Paterno assoluto protagonista e Valso e Nero Verdi il pass playoff con una giornata di anticipo. L'ultima piazza disponibile per gli spareggi promozione spera di raggiungere la Fidelissandria. Nel derby contro il Gravina i federiciani si portano avanti 2-0 ma nel finale rischiano di compromettere tutto subendo il ritorno dei Murgiani in gol con Potenza e Santoro. Il rigore di Manno in pieno recupero consegna alla Fideliss tre punti pesantissimi per proseguire la sfida a distanza con il Savoia vittorioso sul Granata. Nell'altro derby di giornata il Nardò porta via un punto da Fasano. Il 2-2 finale è arrivato dopo il doppio vantaggio iniziale dai padroni di casa e utile alla squadra salentina per tenersi a galla e sperare di giocare i playoff in posizione di favore. A chiudere il programma l'amaro KO del team Altamura travolto 3-1 sul campo della Sarnese. Grazie. Grazie.